Mi dichiaro marito e moglie. Madonna Fottinati, tu vai di là e tu vieni qua. Madonna Fottinati, tu vai di là e tu vieni qua. Madonna Fottinati, grazie. Madonna Fottinati, grazie. Pronto Diana, sei tu ? Caro, si. Hai finito ? Si, si, ho quasi finito. Ma che è successo, hanno combinato ? Pare di si. Ti aspettano nell'ufficio dell'avvocato. 200 milioni in contanti e il resto in cambiali. Poi, Mimì, la tipografia mi ha mandato a chiedere il testo delle partecipazioni. No, no, è urgente, Mimì. Eh, al massimo gli amici le riceveranno dopo che siamo sposati. E non cambia niente. Non so, ma non so, forse tra poco. Eh, si, la poveretta moribonda. Ma io sto qua. La poveretta sta qua, vivente. Ma non mi ha fatta la grazia. Siamo marito e moglie. La signora è risuscitata ? E lo va ! Ecco voi ! Un inganno. Ma come hai potuto ? E quante cose non hai potuto tu ? Ti ho permesso di cambiare la cassiera una, due, tre volte. La prima. Ci sono passata sopra. Filometti devi riposare. Eh, va beh, riposiamoci. La seconda. Per fortuna, dalla stata essa a te. E alla terza te la volevi sposare a quella schifosa. Però voi, voi lo sapevate ! Lo sapevate ! Fuori ! Fuori dalla casa mia ! Fuori tu ! Eppure tu ! Io sto a casa mia sotto il tetto coniugale. Di qua non mi muovono neanche i carabini. Ma la femmina. Ma la femmina si è stata e tale si è rimasta. Guardate che parli di tua moglie ! Qua moglie ? Ma la tua moglie ! La tua ! La signora Soriano ! Io ! Beh ! Io ti accido e ti pago tre soldi ! Una femmina come a te tanto si paga ! Tre soldi ! E questi due schifosi che ti tenevano mano ! Gli accido a tutti quanti ! E allora facciamo la strage ! La rivoltella ! La rivoltella ! La rivoltella ! La rivoltella ! Nel cassetto del Comò ! E non mettere la rivoluzione che ci sta nei camici stirato fresco !